Oggi presentiamo questo disegno di legge sul valore del cibo nella scuola e pensiamo che sia il momento giusto per portare all'interno dell'insegnamento scolastico il valore complesso del cibo con tutte le sue valenze che sono di tipo salutistico, ambientale, culturale. Si apre una fase nuova e la scuola deve essere presente in questo. Noi dobbiamo insegnare ai ragazzi che saranno i cittadini domani quale impatto ha il cibo e quanto è importante e quanta centralità avrà soprattutto nei prossimi anni. E questo è collegato con un altro disegno di legge sulla ristorazione collettiva che presenteremo nei prossimi giorni.